Forse è uno dei motivi per cui hai scritto questa scrittura? Sì, appunto, nel libro ci sono anch'io, non c'è soltanto l'epica del mio concessimento, però ci sono anch'io, ci sono anch'io come scendiatore, come scrittore, ci sono anch'io, soprattutto come ragazzo di casetta che legge il Gantopardo libro per la prima volta al liceo e diventa determinante per me, per mettermi a fare quello che poi ho fatto e perché ho avuto una specie di ossessione da ragazzo, da giovane, per otto e mezzo, l'ho visto tre, quattro volte a settimana, tanto che mio fratello mi soprannominò Fellini, mi chiamava Fellini, a casa mia per il periodo mi chiamavano Fellini, per il semplice fatto che io stavo sempre a vedere otto e mezzo di Fellini, perché mi avevo ossessionato, perché avevo trovato lì dentro qualcosa che non riuscivo a capire, che mi esaltava, ma che non capivo perché mi esaltava. Però, quell'anno, cioè, quando si sta, quando otto e mezzo di Tattopardo esco, i miei genitori vengono a Roma, perché mio padre deve vedere una partita di calcio, Roma-Santos, perché c'è il Pedino, e lui voleva andare per il Pedino, vanno a casa dei parenti di mia madre, mio padre va a vedere questa partita, è stato due o tre giorni, quindi io nel libro mi chiedo se non avviano visto due giorni, otto e mezzo di Tattopardo, comunque la città era piena di manifesti otto e mezzo di Tattopardo, mio padre va a vedere questa partita, torna evidentemente un po' adrenalinico da questa partita, e loro mi hanno raccontato che io sono stato concepito quella notte, a casa di questi poveri parenti che ospitava la mia mamma. Quindi l'imprint in vero era quello di Pedino, dovevi fare il calciatore. L'imprint in vero era quello di Pedino, penso che lì è morto nei giorni che uscì il libro, pochi giorni che uscisse il libro, tra i vari morti che ci sono stati, scrivevi il libro, gente di Tattopardo, gente di Tattopardo, moriva una dietro l'altra, a un certo punto anche allendeva un autodidus tra l'altro, un'estate, quindi insomma io ho cominciato a pensare che c'entrava col fatto che avevo scritto un libro, poi ho il capito di Tattopardo, 85, 95, 96 anni. Nella natura delle cose, anche Pele aveva la sua vita. Quindi questo è un libro che ti tocca molto anche arrivare in personale. Io direi che sì, adesso lo definisci un romanzo. Sì, io lo definisco un romanzo semplicemente perché racconto, poi dentro c'è di tutto. Anche perché io lo definisco un romanzo perché non credo, credo che i romanzi siano una cosa molto diversa oggi, siano un posto dove c'è dentro, dove sono dentro tante cose. Dato che oggi sono qui come sceneggiatore e appunto vengo premiato come sceneggiatore, io credo anche che questo libro racconti la mia passione per il cinema e soprattutto la mia passione per il lavoro di sceneggiatore. Perché in questo libro non ne abbiamo parlato ora, ma ci sono anche molto Flaiano, che era lo sceneggiatore che è lì, e sul suo cerchio del libro che era la sceneggiatrice di Viscotti, che sono due fari del libro, ma anche due fari per me importantissimi nel mio lavoro. Lo dico perché cito un mio amico scrittore che non nomina perché le persone le dicono da sole, ma questo mio amico scrittore ha letto il mio libro e ha detto finalmente ho capito perché fai questo lavoro, perché per me come scrittore questo lavoro di sceneggiatore si fa per i soldi, ma io ho sempre visto che tu non lo facevi per quello, ma che ti piaceva, ma io non capivo come era possibile, perché visto che fai lo scrittore, in realtà io ho sempre pensato a fare lo sceneggiatore come a essere scrittore, cioè che è la stessa cosa, il fatto che scrivi un film per un regista non è affatto una cosa che diminuisce questo senso creativo e autoriale, ma in qualche modo anche lo aumenta per complicità, per empatia con gli altri, tant'è vero che io soffro molto di più per un film che per un libro quando esce perché nel libro mi sento totalmente responsabile e quindi se mi vogliono ammazzare ammazzano me e va bene, invece per un film mi sento responsabile perché possono ammazzare degli altri, questa cosa qua mi preoccupa di più, mi dà più ansia, cioè il fatto di avere la responsabilità non solo per me, ma per il regista, ma anche per tutti gli altri, gli attori, tutti, di aver fatto qualcosa di sbagliato mi preoccupa molto di più che per me stesso, per un libro, perché un libro io posso sopportarlo, non posso sopportare che devo le cose in casa. Grazie.